Musica Musica Buon abitacolo, omicidio Antonio Pascuzzo, caro Lapenta di origini polane. Musica Piano di zona, avviso per sussidi di assistenza alimentare e proroga contributi per i centri anziani. Padula, la certosa di San Lorenzo, ospita la mostra e fatto giorno. Fuzza allo Sporting Valdiano, promossa in C2, vinto il Girone Oro con un turno di anticipo. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Questa mattina le nuove operazioni con la convalida dell'arresto di caro Lapenta e con la disposizione per effettuare l'esame autoptico sulla salma del 18enne Antonio Pascuzzo, il cui corpo è stato rinvenuto sabato scorso dai volontari della protezione civile di Padula nei pressi della struttura abbandonata della palestra comunale di Buonabitacolo. L'incarico per effettuare l'autopsia è stato affidato intorno alle ore 12 al dottor Adamo Maiese ed è al momento in corso. I carabinieri nel corso della perlustrazione della zona dopo il ritrovamento del cadavere hanno rinvenuto all'interno dell'edificio abbandonato la bicicletta del giovane. Dopo pochissime ore il fermo per un altro 18enne, appunto caro Lapenta, come responsabile dell'omicidio. Vediamo. Dopo poche ore dal ritrovamento del corpo del giovane di Buonabitacolo Antonio Alexander Pascuzzo, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Davide Acquaviva hanno fermato il responsabile che dopo un lungo interrogatorio ha confessato di essere l'autore dell'omicidio. Si tratta di caro Lapenta, 18 anni, di origini polacche, ma ha adottato pochi anni fa insieme alla sorella da una famiglia particolarmente stimata di Buonabitacolo. I militari dell'arma hanno impiegato pochissime ore per individuare il responsabile e dopo un lungo interrogatorio alla presenza del suo avvocato, il ragazzo ha confessato di aver commesso l'omicidio nella sera stessa in cui Antonio Pascuzzo era scomparso dopo aver ricevuto una telefonata. L'omicidio è avvenuto nei pressi del luogo del ritrovamento del cadavere dietro alla palestra comunale abbandonata in avanzato stato di decomposizione. L'omicidio, avvenuto con efferata rabbia, ha portato l'assassino a colpire il ragazzo scomparso per ben sette volte con un coltello, sottoposto a sequestro dei carabinieri, di cui cinque fendenti al petto e altre due sulla sinistra del torace, colpendo la spalla e il costato. Le motivazioni sembrerebbero banali, dato che, come ha messo in sede di interrogatorio dall'autore del delitto, la lite è scaturita a seguito del tentativo da parte dell'assassino di impossessarsi di un modesto quantitativo di droga in possesso della vittima. Dopo aver colpito a morte Antonio Pascuzzo, avrebbe provveduto ad occultare il cadavere, trascinandolo per circa 50 metri, per poi gettare il corpo nel torrente da un'altezza di circa 5 metri, dove è stato poi ritrovato lo scorso sabato pomeriggio dai volontari della Protezione Civile di Padula, che insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco di Salerno erano intenti nelle ricerche del giovane dal giorno della sua scomparsa, avvenuta venerdì scorso 6 aprile. L'intensa attività di ricerca del ragazzo, unitamente ad attente indagini avviate già prima del ritrovamento del corpo del giovane assassinato con gli uomini del capitano Acquaviva che hanno analizzato anche i tabulati telefonici, ha permesso di risalire in tempi celeri a Carol Lapenta come possibile autore del crimine che ha poi confessato l'omicidio. Il ragazzo è ora agli arresti nel carcere di Potenza con l'accusa di omicidio volontario con occultamento di cadavere pluriaggravato da motivi futili, crudeltà e rapina. Il ragazzo, conosciuto nella comunità di Buonabitacolo durante tutto il periodo della scomparsa di Antonio, aveva continuato nella sua vita quotidiana, recandosi regolarmente al lavoro a Montesano, dove era impegnato come apprendista macellaio, sereno e senza alimentare alcun dubbio. Tanto che pare che al momento del ritrovamento del cadavere è stato avvistato sul posto e in tale circostanza chiedeva anche informazioni su cosa fosse accaduto. La tragica vicenda che ha visto un giovane 18enne coinvolto a coltellare per uccidere un suo coetaneo per motivi legati alla droga sconvolge tutto il Valoridiano, non solo Buonabitacolo. Un caso assurdo anche per l'attenzione che l'assassino ha usato nel nascondere il cadavere e nella sua assoluta tranquillità nel presentarsi in mezzo alla comunità. Un caso che impone inevitabilmente una serie di riflessioni su cosa sta accadendo ai giovani e su quali sono i pericoli a cui vanno incontro. Tutto il Vallo di Diano resta profondamente scosso per l'omicidio brutale di Antonio Alexander Pascuzzo, ucciso da un suo coetaneo con sette coltellate. E tutto il territorio oggi si chiede cosa sta accadendo che toglie dai piccoli comuni quel senso di serenità e tranquillità che li faceva sentire lontani da tesibili fatti di cronaca raccontati dai TG nazionali. I protagonisti del dramma sono due giovani diciottenni di un piccolo paesino come Buonabitacolo che conta circa 2500 abitanti e che si chiede quali sono i sentimenti che spingono i ragazzi verso tanta violenza. L'ultimo caso risveglia le coscienze. Gli uomini del capitano Davide Acquaviva da mesi hanno intensificato i controlli antidroga sul territorio e anche a Buonabitacolo si sono registrati casi di fermi e segnalazioni per uso e spaccio di droga. Anche Antonio Pascuzzo lo scorso 30 novembre era stato arrestato dai carabinieri perché in possesso di 30 grammi di hashish e bilancino di precisione. Dalla compagnia carabinieri diretta dal capitano Acquaviva come spiegato in una recente intervista dal procuratore di Lago Negro il dottor Vittorio Russo i controlli sul territorio per reprimere reati legati all'uso e allo spaccio di sostanza stupefacente sono intensi e serrati ma evidentemente ciò non basta. Quanto accaduto impegna su una seria riflessione richiamando tutti alla responsabilità, tanti messaggi sui social e tutti che invitano a riflettere. Lo fa Elia Rinaldi, ex sindaco di Buonabitacolo che invita ad un'attenta analisi per poi agire nella maniera opportuna. Per fare tutto questo, scrive, occorre scavare nel profondo e mettersi in discussione anche individualmente. Anche il sindaco Giancarlo Guercio, analizzando la vicenda, sottolinea come va intrapreso un'azione seria, senza demagogia o scusanti. Ognuno deve fare la sua parte, io per primo. Raffaele Accetta, presidente della comunità montana Vallo di Diano, scrive Sul fatto è intervenuta anche Rosabella De Angelis, giovane ragazza impegnata con l'associazione Love Vallo di Diano che scrive L'omicidio ha suscitato molte domande, molte riflessioni e molte perplessità, ma se da sfondo generale c'è una società disturbata, intenta a volte più a guardare profili che visi, forse non c'è tanto da meravigliarsi che dal tribolato sortiscano tribolazioni, anche quando ad essere colpite una piccola comunità. Anzi, continua Rosabella De Angelis, questo sottolinea che non importa se viviamo in una metropoli, in una città o in un piccolo paese di provincia, siamo tutti accomunati dalla stessa sorte, se non ci si attua un cambio di rotta collettivo e globale. Ad ogni modo, conclude, voglio credere che il Vallo di Diano sia ancora un buon abitacolo per chi vive da sempre e per chi ci vivrà in futuro. L'amministrazione comunale di Camerota porge gli auguri e le congratulazioni più sincere al maresciallo capo Francesco Carelli per la recente nomina a comandante della stazione dei Carabinieri di Camerota, sicuri che saprà svolgere il prestigioso incarico al servizio della collettività. Carelli subentra al luogotenente Massimo Di Franco, promosso ufficiale e trasferito al comando del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Eboli. Dopo una prima cordiale visita presso la casa comunale, il sindaco e il comandante Carelli si sono dati appuntamento nei prossimi giorni per istituire un tavolo di lavoro in modo da avviare una stretta collaborazione tra l'ente e l'arma dei Carabinieri in vista della prossima stagione turistica. Intanto presso la caserma di Marina di Camerota sono entrate in servizio nuove figure che vanno ad incrementare il numero di forze dell'ordine sul territorio. E cambiamo argomento. Nei giorni scorsi a Teggiano è apparso un nuovo manifesto del gruppo Rinnoviamo di Anno che attacca l'amministrazione di Candia per le nuove tariffe e aliquote approvate della seduta consigliare dello scorso 30 marzo. Per il gruppo capeggiato da Rocco Cimino le stesse hanno subito un deciso aumento rispetto alle tariffe emesse dalla precedente amministrazione. Tasse in su a Teggiano per il gruppo consigliare Rinnoviamo di Anno che nei giorni scorsi con un manifesto pubblico evidenzia come nella seduta consigliare dello scorso 30 marzo sono state approvate aliquote tariffe che in realtà non evidenzierebbero nessuna riduzione rispetto alle tariffe emesse dalla precedente amministrazione Cimino ma piuttosto un incremento su diverse voci. Il manifesto pubblico si apre con il gruppo consigliare di opposizione che ricorda come durante la campagna elettorale tra i diversi attacchi verso l'amministrazione uscente anche le affermazioni secondo cui l'amministrazione Cimino aveva aggravato di tasse ingiustificate alla comunità. Tariffe che secondo quanto riportato sarebbero state confermate anche per il 2018. Non c'era, scrivono sul manifesto, un impegno più volte sbandierato a ridurre le tasse e le tariffe sulla spazzatura? Il manifesto porta quindi un raffronto tra le due amministrazioni sia per ciò che riguarda le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Dalle immagini salta subito all'occhio come vi sia una prevalenza di segni più nella voce della differenza a segnalare che tra l'amministrazione guidata da Rocco Cimino e l'attuale amministrazione del sindaco Michele Di Candia vi è una netta prevalenza di segni positivi che lasciano intendere aumenti. Per le utenze domestiche sono sei le tabelle di riferimento, ciascuna composta da sei voci in base ai metri quadri dell'abitazione per un totale di 36 voci. Di queste 36 sono ben 32 che fanno registrare un aumento che va da un minimo di 12 euro fino ad arrivare per alcune voci anche ad aumenti di 108 euro in più da parte dell'amministrazione di Candia rispetto all'amministrazione Cimino. Non va meglio per le utenze non domestiche che su 27 voci che si riferiscono alle diverse tipologie di esercizi commerciali soltanto una fa registrare una diminuzione. Si tratta dei negozi di filatelia, tessuti, tende, tappeti, cappelli e antiquariato gli unici che potranno beneficiare di una riduzione di circa 13 euro rispetto a quanto si pagava con l'amministrazione Cimino. Per le altre 26 tipologie di esercizi commerciali che vanno da un minimo di circa 3 euro per alberghi senza ristorante su locali di 100 metri quadri fino a somme come 399 euro in più che dovranno pagare gli esercizi commerciali dediti alla pescheria, ortofrutta, fiori e piante e pizza al taglio. 278 euro per 100 metri quadri per le attività come ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e pub. Aumenti anche per bar e caffè che su un locale di 100 metri quadri dovranno pagare in più 142 euro. Ma la stangata maggiore pari sia riservata ai banchi di mercato e generi alimentari che per locali di 100 metri quadri andranno a pagare ben 520 euro in più. Era l'amministrazione Cimino che non sapeva fare i conti? Si chiede in conclusione il gruppo Rinnoviamo di Ano. Dal Comitato Civico di Padula è stata segnalata la presenza di difiuti di vario genere, tra cui Eternit, nella zona Lombiso. Vediamo. Il Comitato Civico di Padula, sempre attento alle problematiche e alle criticità che toccano la comunità padulese, segnala la presenza di difiuti di vario genere con prevalenza di fogli di Eternit e materiali di disulta nella zona Lombiso, precisamente a ridosso delle spallette del vallone Notarcirco e all'interno del vallone stesso. Dimostrazioni di inciviltà e di incuria non sono nuove a Padula, anche se c'è da dire che nel resto del Vallo di Diano la situazione non è poi così diversa. Lo scorso anno lo stesso Comitato denunciò la presenza di rifiuti pericolosi nell'area di laminazione del torrente fabbricato nei pressi della Certosa di San Lorenzo. L'alveo era diventato luogo di scarico di rifiuti di ogni genere. Nello stesso anno il Comune di Padula aveva adottato il pugno duro in materia di abbandono indiscriminato di rifiuti al fine di tutelare la salute pubblica, la sicurezza e il decoro urbano. Furono previste multe salatissime per chi fosse stato pescato ad abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere sul territorio comunale. A quanto pare è servito a poco. Il primo cittadino, Paolo Imparato, aveva anche invitato la comunità alla collaborazione e a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni. Ed è questo il ruolo che si è dato il Comitato civico di Padula, segnalare problematiche e non partecipare all'indifferenza dei più verso situazioni gravi che riguardano la comunità locale. Nei termini e nel rispetto dell'istituzione e delle leggi, dicono dal Comitato, il loro compito è quello di cercare di risvegliare il senso civico nei cittadini e negli amministratori, sollecitando l'adozione di comportamenti rispettosi. Sul loro sito web vi è una sezione dedicata a cui tutti possono accedere per segnalare eventuali problematiche di natura ambientale, culturale e sociale. Il Comitato valuterà di volta in volta l'opportunità o meno di intraprendere iniziative. Taglio del nastro domani per il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Roccadaspide dopo importanti lavori che hanno completamente cambiato il volto del reparto e che ora si presenta all'avanguardia con ampi spazi a disposizione con nuove attrezzature. Appuntamento alle 10 per la cerimonia di inaugurazione che vedrà la presenza del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ci saranno anche il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Ciro Miniero e del Direttore Generale dell'ASL di Salerno, Antonio Giordano. Parteciperanno alla manifestazione tutti i sindaci e gli amministratori della Valle del Calore, degli Alburni e dell'Alento, il Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Canfora. Cambiamo argomento. Il piano di zona vuole formare un elenco per le famiglie bisognose che possono essere ammesse all'assistenza alimentare per il 2018, mentre sono stati prorogati termini di scadenza per i contributi alle attività nei centri per anziani. È stato reso noto l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di nuclei familiari bisognosi residenti in uno dei 18 comuni dell'ambito S10, aderenti al programma Lotta alla Povertà per la missione a sussidi, sotto forma di assistenza alimentare per il 2018. I destinatari sono circa 360 nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e che al momento della presentazione della domanda siano residenti da almeno 24 mesi in uno dei 18 comuni dell'ambito S10, aderenti al programma, spiega il responsabile Antonio Florio, e che abbiano un reddito i 6, inferiore o pari a 6.000 euro per la richiesta di prestazioni sociali agevolate in corso di validità alla data del presente avviso. La domanda potrà essere presentata secondo le modalità riportate dalla procedura online entro la mezzanotte del 26 aprile, salvo eventuali proroghe. Per gli 6 inferiori a 1.000 euro vanno dichiarati le fonti e i mezzi da cui il nucleo familiare trae il suo sostentamento. È una buona iniziativa per combattere la povertà che è imperversa anche in questo territorio, continua Florio. Intanto sono stati prorogati fino al 4 maggio alle 12 i termini di scadenza per la concessione dei contributi da destinare alle attività e alla gestione dei centri sociali polifunzionali per anziani. Con la nuova legge vogliamo mettere ordine, riferisce ancora la responsabile del piano di zona. Fino al 2015 disponevamo di poche risorse, adesso invece abbiamo il budget giusto per i 19 centri presenti. Esistono tre tipi di servizi, domiciliare, semi-residenziale e residenziale. Noi vogliamo potenziare i secondi, vogliamo cioè ampliare i centri diurni con una serie di attività, prendendo come riferimento quelle più elevate. 3.000 euro all'anno sarebbero così di aiuto per le piccole spese di gestione. Insomma, si punta a migliorare anche l'esistente e anche per i centri più piccoli occorre mantenere le spese, mentre sui centri abitati più estesi il discorso si fa più ampio e più complesso. La rilevanza penale delle condotte del pubblico funzionario nei delitti di corruzione, concussione, abuso e omissione in atti d'ufficio, il titolo del libro scritto dall'avvocato Michele De Jesu, presentato sabato scorso presso l'Aula Consiliare di Bibbonati. L'evento, patrocinato dalla Camera Penale Alfredo De Marsico, ha visto gli interventi, dopo i saluti del sindaco di Bibbonati Franco Brusco, del procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro Vittorio Russo, dell'avvocato Enzo Bonafine, presidente della Camera Penale De Marsico, mentre le conclusioni sono state affidate all'autore, all'avvocato De Jesu. Sicuramente racconta parte della mia vita professionale, però l'idea della scrittura del libro nasce sulla scorta del fatto che ritengo assolutamente indispensabile oggi una lettura in maniera trasparente e in maniera chiara della norma. In realtà oggi ci sono troppi dubbi interpretativi sulla stessa e quindi i dubbi nelle interpretazioni e nella non chiarezza della legge potrebbero esserci riverberi chiaramente inquisitori. Infatti il titolo si basa sulla rilevanza penale delle condotte del pubblico funzionario. Quindi è opportuno chiarire quello che ha rilevanza penale e quello che invece è semplicemente illegittimo, perché un atto illegittimo di un funzionario non è detto che abbia rilevanza penale. Sicuramente è una riflessione su un tema di grande attualità che ci tocca a tutti come cittadini innanzitutto. E' purtroppo un problema rilevantissimo, la corruzione esiste nei pubblici uffici e rappresenta una delle maggiori criticità della nostra democrazia. Non si può negare che la corruzione, l'evasione fiscale hanno un ruolo fondamentale nella diffusa illegalità che contraddistingue il nostro paese. D'altra parte se è stato necessario istituire un'autority per la lotta alla corruzione, l'ANEC evidentemente il problema è sotto gli occhi di tutti. Per cui una riflessione poi su questi temi, peraltro poi in una location, cioè nella casa comunale, e poi credo che faccia bene a tutti. Bisogna combattere la corruzione e soprattutto restituire poi la fiducia ai cittadini e la fiducia tra i cittadini e le istituzioni, che credo sia assolutamente fondamentale per il buon andamento della nostra democrazia. Guardi, la corruzione è un fenomeno multisettoriale, è un fenomeno culturale, sociologico, politico e anche, ma non solo, giudiziario. Il fatto è che negli ultimi tempi, accanto a delle risposte legislative anche apprezzabili sul piano della prevenzione, ve ne sono altre che invece hanno trasformato in una deriva giustizialista gli interventi normativi, nel senso che i reati contro la pubblica amministrazione sono stati equiparati ai reati di criminalità organizzata sotto vari aspetti. C'è stato un inasprimento generalizzato delle sanzioni, un allungamento dei termini di prescrizione e soprattutto la possibilità di applicare le misure di prevenzione anche a questi reati ed è un qualcosa che noi riteniamo assolutamente sbagliato perché contrario ai principi di civiltà giuridica e perché finisce con l'esasperare una risposta repressiva che è del tutto fuori dall'ambito dei principi del giusto processo. Vedo che la Casa Comunale sia la sede naturale di un dibattito che ha per oggetto le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione. E' un tema molto attuale che involge una serie di aspetti che hanno a che fare con le attività amministrative di una pubblica amministrazione nello specifico di un ente locale. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio. Sabato scorso presso la Certosa di San Lorenzo a Padula è stata inaugurata la mostra è fatto giorno dedicata al pittore materano Luigi Guerricchio e arricchita con le poesie del conterraneo Rocco Scotellaro. E' stata inaugurata sabato scorso presso la Certosa di San Lorenzo a Padula la mostra è fatto giorno dedicata al pittore materano Luigi Guerricchio. L'associazione Factotum insieme ai nostri partner la Montepruno Giovani, il Museo Imam di Moliterno e l'Università Telematica Pegaso presentano questa mostra dal titolo è fatto giorno dedicata al pittore materano, lucano, diciamo se vogliamo allargare il raggio, Luigi Guerricchio. Questa mostra è stata realizzata anche con l'aiuto della famiglia del pittore infatti interverrà anche il nipote che ci ha concesso alcune opere insieme a quelle provenienti dalla collezione dei Musei Imam di Moliterno. Inoltre un'opera arriva proprio direttamente da Palazzo Lanfranchi quindi dai musei di Matera diciamo l'originalità di questa mostra esiste nel fatto che abbiamo cercato di coniugare l'arte alla poesia. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra l'associazione Factotum di Sassano e l'associazione Montepruno Giovani. La conferenza stampa di presentazione è stata anche occasione per i due soggetti promotori di sottoscrivere un protocollo di intesa e avviare un percorso di valorizzazione del territorio attraverso l'arte. Abbiamo voluto sottoscrivere questo protocollo stasera proprio per dettare una linea guida comune che porterà sicuramente a immaginare altri appuntamenti della specie come quello di oggi ma soprattutto cercherà di unire arte e territorio attraverso quella che è una valorizzazione dei siti di questa terra e magari se ci riusciamo anche un po' più verso Salerno, verso Potenza è il nostro messaggio che vogliamo lanciare al territorio nel senso di costruire qualcosa di fattivo ma non da soli perché da soli non ci riusciremo mai bensì insieme ad altri soggetti. La mostra, allestita nell'archivium, resterà aperta al pubblico fino a lunedì 4 giugno espone 26 opere, tra tele, incisione e litografie tutte corredate dalle poesie di Rocco Scotellaro che sarà possibile leggere e ascoltare attraverso la lettura dei QR Code. L'arte dei Lucani Scotellaro e Guerricchio, entrambi portavoce della stessa realtà sofferta è accomunata dalla voglia di riscatto e dalla presa di coscienza che per cambiare le sorti della propria gente si deve tornare tra la propria gente. Ecco che i ragazzi di Factotum vi hanno percepito una sorta di parallelismo con la missione della propria associazione. Le opere in esposizione sono parte della collezione permanente del Museo del Novecento Lucano proprietà del dottor Gianfranco Aiello e del dottor Antonio Guerricchio, nipote dell'artista. Era una persona molto mite, molto tranquilla, molto legata al suo lavoro. Aveva lo studio a pochi metri da casa e quindi il suo tragitto fisso ogni giorno era casa, studio e ritorno, quando era a Matera. Poi con le sue tele partiva e andava dappertutto. Io ho assistito fin da piccolo a questo suo peregrinare e poi soprattutto negli ultimi anni abitando proprio al piano di sotto del suo studio. Essendo mancato all'improvviso e non essendo sposato, non avendo figli, io e le mie sorelle eravamo gli unici, diciamo così, eredi. In quel momento ci siamo trovati abbastanza spaisati. Le strade erano due, o alienare tutto o creare qualche cosa e abbiamo preferito intraprendere questa strada. E questa mostra di stasera sicuramente è uno dei tanti frutti che abbiamo raccolto. Io ho istituito questi musei per due motivi, per amore verso l'alto e per amore verso la Lucania. E per dare uno stimolo a questa Lucania che è ferma, era ed è ferma sull'arte. Fino ad adesso non esisteva un museo sugli artisti lucani. Adesso abbiamo istituito da un po' di anni il museo del Novecento Lucano e il museo dell'Ottocento Lucano. Con i massimi artisti, per esempio di quei ricchi avremmo un centinaio di opere, per dire, quindi è un museo imponente. Sono cose di grande importanza, speriamo che la Basilicata se ne accorga. Il Circolo Banca a Montepruno, l'Associazione Montepruno Giovani e la Banca a Montepruno, sabato scorso nel corso di un incontro sul libro Io non c'ero, cosa sanno i giovani di Falcone e Borsellino, hanno riportato l'attenzione sulla lotta alle mafie, cercando di sensibilizzare i giovani e riaffermare i valori della legalità e della giustizia sociale. Sabato scorso, presso la Sala Cultura della Banca a Montepruno a Sant'Arsenio, si è tenuto l'incontro con i giovani per una cultura della vita sul sentiero della legalità, organizzato dal Circolo Banca a Montepruno, dall'Associazione Montepruno Giovani e dalla Banca a Montepruno. Prendendo le mosse dal libro Io non c'ero, cosa sanno i giovani di Falcone e Borsellino e da quello che è il ruolo sociale del Parlamento della legalità internazionale, i relatori hanno parlato ai giovani e ai meno giovani di verità e giustizia, di dignità e talento, di sogni e di onestà. Nel libro si trovano verità e giustizia, si trova il grido di tanti studenti che non vogliono stare nella logica diabolica del compromesso. Sono libri che nascono tra i banchi di scuola, che propongono una cultura di riscatto e partendo da quella frase che abbiamo detto dopo le strage di Capace a Via D'Amelio, nessuna notte sarà così lunga da impedire al giorno di ritornare. Parlano i ragazzi, parlano i giovani, nel libro Io non c'ero, ci sono pure le schede di Paolo Borsellino, ma siamo già pronti a riconsegnare al mondo della scuola il ventinovesimo libro che ha come titolo Peccatori si corrotti mai, perché vogliamo dire grazie all'anatema contro i carnefici di Cosa Loro a Giovanni Paolo II, quel 9 maggio del 1993 nella Valle dei Templi ad Agrigento, ricordare la memoria di padre Pino Puglisi, ucciso a Palermo, a Brancaccio, con quell'esortazione, se ognuno fa qualcosa il mondo sarà diverso, ucciso anche lui 25 anni fa. E noi dopo Roma presenteremo qui in questo territorio questo libro, perché anche i ragazzi di questa bellissima regione Campania oggi ci hanno dato un grande contributo. Le finalità sono quelle di arrivare nel cuore di ogni persona e dire da quale parte stare. Adesso siamo in 13 regioni d'Italia, dove noi abbiamo istituito i coordinatori regionali che sono coloro che porteranno avanti il nostro percorso culturale. È una politica di cultura sociale, cioè arrivare direttamente nelle scuole significa poi andare nelle case, poi significa andare nel territorio nazionale, significa portare la parabola dei talenti, cosa sai fare tu oggi per poter portare avanti domani quel disegno che è quello della vita. Visibilmente emozionati il direttore generale Michele Albanese, il presidente Aldo Rescinito, il presidente Antonio Mastrandrea, quando Niccolò Mannino ha annunciato l'entrata della Banca Montepruno nel Parlamento della Legalità, che quindi avrà una sede di staccata nel Vallo di Diano. Siamo veramente fieri e orgogliosi di questa novità, di questa notizia che ci è pervenuta stasera. Entrare nel Parlamento della Legalità non è da tutti e lo dedichiamo veramente a tutte le persone che lavorano per la nostra banca, per tutti coloro che credono ai valori della nostra banca, che tutte le mattine si alzano consapevoli del ruolo che debbono svolgere, che non è solo quello del bancario puro, ma soprattutto di un operatore, di un operatore a contatto con le persone dalle più umili alle più importanti. Quindi di conseguenza questo momento è veramente emozionante. Noi abbiamo ricevuto molti attestati, però questo ci riempie veramente di grande soddisfazione. Andremo a Roma a ritirare l'attestato con grande soddisfazione, impegno e veramente fieri di poter portare su questo territorio un altro tassello della Banca Montepruno, che è quello della Legalità. Oggi pomeriggio siamo stati qui, diciamo nella Sala Cultura della Banca, con tanti amici, giovani e meno giovani, e abbiamo assistito insieme a questa ulteriore bellissima esperienza portataci dagli amici siciliani su un pezzo, su un momento tragico della nostra storia, quello di Paolo Borsellino e di Falcone, e non solo, di tanti altri come loro. Questa storia è ancora continua, noi siamo pronti, come avete sentito, ad entrare in lotta silenziosa, ma tenace, contro questi surplusi e contro questi sistemi. La versione teatrale del racconto dei racconti, tratto dal Pantamerone di Gian Battista Basile per la regia di Franco Cutolo e interpretato da Federico Salvatore, è andato in scena venerdì scorso al teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina. Uno spettacolo fuori cartellone a sorpresa che fa calare il sipario sulla stagione teatrale salese. Per noi c'era Pietro Cusati. Il messaggio va nella direzione sempre del mio discorso di autore, che è quello di rivalutare la tradizione, quella di proporre sempre ad un pubblico materiali della memoria storica, della nostra cultura, ma non tanto tradizione intesa nella maniera più oleografica o diciamo generale. Tradizione cioè mettere le mani nella storia e rielaborarla per cercare di rappresentare un momento di ancoraggio alle nostre origini, alla nostra identità, che è un momento storico un po' difficile nostro. Impegnato, infatti per fare questo spettacolo mi sono impegnato tutto quello che avevo a casa, braccialetto, orologio, è impegnato e sono felice di partecipare perché diciamo, ah ma c'è anche il regista, c'è il regista là alle spalle quindi non mi posso esporre. No, a parte gli scherzi, voglio dire, io non ho mai perso la mia natura goliardica e questa goliardia nei miei scritti diciamo che collima con il testo e la ricerca basiliana che Franco Cutolo, devo dire, amico e un grande professionista, ha messo insieme. e quindi abbiamo intrecciato questo barocco 600 napoletano con degli scritti, delle favole di Federico Salvatore. Sì, sì, questo sì. Che cosa stasera farai? Allora, stasera interpreto Gian Battista Basile, quando era piccolo. È un ruolo che ti piace? Sì, 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 molto. E poi ti trovi bene con gli altri compagni? Sì, 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 mi sono subito ambientata. È una grossa emozione recitare qui al Teatro Scassetti? Sì, sì, soprattutto essendo di sala. Gioie dallo sport valdianese. Lo sporting valdiano riesce, vince e conquiste il campionato C2 con un turno di anticipo e festeggia il salto di categoria. Vittoria doveva essere, vittoria è stata per lo sporting valdiano che sabato pomeriggio al Palazzingaro di Sala Consilina batte 11 a 2 il Futsal Capaccio, Pestum e festeggia con una giornata di anticipo la promozione in C2. Era questo uno degli obiettivi stagionali per la formazione di mister Giordano, un obiettivo centrato e conquistato sul campo al termine di una post-season nuova per format e contenuti che però ha evidenziato ancora una volta lo spessore dello sporting. Nonostante la sconfitta nella derby alla prima giornata contro il Dolce Vita, Chirichella e Soci hanno saputo invertire la rutta e messo a referto ben 10 punti. La vittoria di sabato contro il Capaccio Pestum è stata fondamentale poiché anche in caso di sconfitta all'ultimo turno e la vittoria dei Capacesi la formazione valdianese ha il vantaggio dello scontro diretto. Questo ha consentito di poter festeggiare il salto di categoria con un turno di anticipo e con tanta soddisfazione da parte di mister Giordano che ha voluto ringraziare tutti. Finalmente, scrive Giordano, posso ringraziare tutti i miei grandissimi ragazzi che finalmente hanno raggiunto l'obiettivo prefissato all'inizio stagione vincere questo lungo e complicato campionato raggiungendo l'obiettivo C2. Hanno messo grande cuore e grande coraggio in tutte le partite dimostrando, prosegue il tecnico, di meritare questo risultato. Bravissimi e grandissimi, vi ringrazio di avermi sopportato in questi mesi ma il risultato alla fine ha dimostrato che ne è valsa la pena. Grazie ai miei dirigenti che hanno fatto da chioccia nei momenti più difficili, grazie al mio vice e grazie soprattutto al presidente che ha creduto dall'inizio in me nel ruolo di allenatore, il presidente Giuseppe Pucciariello che oggi ha meritato questo grande risultato. Ora conclude, godiamoci la festa, poi dalla prossima settimana cominciamo a pensare al futuro. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.